Sto facendo un video vai, questo su YouTube Beh, siamo a Boville, il ristorante di un frantoio Ti mangio un pezzo, guardate, guardate Facciamo un po' di propaganda Un po' di propaganda, vai, proprio un po' di Ma lei sa che si muove alla forma? Lello, Lello Poi diamo Giambollo, fratello di Giantacchino Lì lo stiamo guardando, dovrebbe essere un uomo Fate le opportune verifiche E' una pietanza che ci è stata appena portata Allora lui ci vuole un commento su questa giornata Questa giornata, come potete vedere, ci siamo abboffati di roba C'è rimasto più niente, ma solo perché C'è rimasto un po' di roba che porteremo a Gaida e ci mangeremo durante il viaggio di ritorno Al cagnolino di Lucio Andiamo a Pazzini, hai fatto Pazzini Eh, prima Basta, non ballare più, basta Basta, non puoi nulla, eh Pazzini a Mauri Abbiamo preso No, per dire che alla decimpa se le va Ok, per ora che no Pazzini a leggere, te la decimpa, si è che le va E' che... Pazzini 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 Grazie a tutti.